A Cazzano Sant'Andrea in questi giorni il gruppo di minoranza per Cazzano guidato da Giovanni Calderoni ha diffuso un volantino piuttosto polemico su alcune scelte dell'amministrazione lighista. Il volantino prende lo smunto dall'atteggiamento tenuto dalla maggioranza nell'ultimo consiglio comunale nei confronti di tre interpellanze che il gruppo aveva presentato riguardanti l'utilizzo dei residui dell'anno 2007, i mutui per il finanziamento delle opere del triennio 2010-2012 e la realizzazione delle opere standard legate al piano integrato di via Cavalier Radici. La minoranza ha criticato la scelta della maggioranza di rinviare la trattazione delle tre interpellanze alla prossima seduta del consiglio comunale. Nel volantino si fa anche accenno ad un episodio avvenuto nell'ultimo consiglio quando il sindaco Albina Manuela Viana aveva annunciato una dichiarazione molto importante ma poi era stata dissuasa dal suo vice, l'onorevole enunziante consiglio. La minoranza ha ipotizzato che il sindaco volesse annunciare le proprie dimissioni ma Albina Manuela Viana ha smentito in modo categorico. Ha dichiarato all'Eco di Bergamo che il suo intervento era relativo ad un articolo pubblicato da un settimanale che aveva riportato dichiarazioni non rispondenti a quelle da lei rilasciate. Albina Manuela Viana ha dichiarato che lei sta al suo posto e va avanti nel suo compito più convinta di prima soprattutto ora che è oggetto di attacchi personali.